Più dell'80% dei diplomati degli istituti tecnici superiori piemontesi nel 2021 ha trovato un lavoro. Un traguardo importante per il tessuto produttivo e per quella risposta ad una chiamata occupazionale da parte delle imprese che cercano nuove figure altamente specializzate. Proprio il sistema ITS del Piemonte si è confermato anche quest'anno ai vertici della classifica nazionale INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, con tutte le sette fondazioni premiate. Primo assoluto la fondazione ITS Aerospazio Meccatronica, con 27 occupati nel settore su 28 diplomati ad un anno dal diploma. È proprio a fronte di questi risultati che la Giunta regionale ha voluto confermare la fiducia in un sistema altamente performante, garantendo una nuova iniezione di risorse pari a 10 milioni per il biennio 2022-2024, aggiungendone 3 rispetto al biennio precedente. Lo stanziamento dell'assessorato alla formazione professionale della Regione Piemonte, guidato da Elena Chiorino, a sostegno del sistema ITS, erogherà quindi alta formazione specialistica. C'è lavoro per i cittadini e competitività per le imprese, laddove vi siano adeguate competenze, ha affermato l'assessore. È un scenario che in Piemonte abbiamo ben chiaro e sul quale investiamo e continueremo ad investire risorse. Rispetto a un passato non così tanto remoto, ha aggiunto Chiorino, abbiamo potenziato il sistema sotto ogni punto di vista, con una crescita sostanziale, passando da 25 a 35 percorsi e 2 milioni in più per l'anno 2021-2022, coinvolgendo 1.500 allievi. I percorsi ITS sono completamente gratuiti per gli studenti e rilasciamo un diploma superiore del Ministero dell'Istruzione, riconosciuto sia a livello nazionale sia a livello europeo.